Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video, nuova notizia flash. In tantissimi state chiedendo un concorso o una manifestazione che vada dopo l'11 aprile o dopo il 15 aprile. Attenzione, allora, il calendario del CONI attualmente è fino al 15 aprile, quindi tutte le manifestazioni che sono presenti oltre, ovviamente non sono riconosciute da calendario, tantomeno è visibile sul sito internet www.coni.it. Quando usciranno le nuove date dopo il 15 aprile? Assolutamente appena avremo comunicazione. Sicuro ci sarà in calendario qualche novità, qualche news, qualche concorso e soprattutto speriamo di fare i concorsi fisici di persona il prima possibile. Ma fino a quel momento sono tutte calendarizzate e visibili sul sito internet del CONI. Sul sito troverete tutti gli enti, le federazioni e le discipline associate, tutte le manifestazioni. Ovviamente sono ai fini dell'allenamento e vi ricordo che queste competizioni nazionali sono aperte solo al mondo sportivo. Quindi la partecipazione per ASD e SSD sono escluse purtroppo le APS, le culturali o via dicendo. Ovviamente questa è solo una piccola news della giornata. Per maggiori novità vi invito a seguirmi sul mio canale Instagram Danilo Ramanic. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!